sogni ricordi dopo una notte di sogni comprensibili o indecifrati ci svegliamo con in testa ciò che abbiamo vissuto prima confusione ma dopo tutto appare chiaro lo teniamo nella mente lo raccontiamo e lo riviviamo si aggiunge a quel racconto altro particolare e lentamente con fatica si va a completare si rivive il sogno che ci fa fantasticare succede anche ai ricordi quando affiorano alla mente specie se lontani appaiono appannate inizialmente poi si snebbiano schiariscono e sono pronti a raccontare nel corso del racconto si aggiunge un particolare dal cuore nella mente ti fa gioire il tuo narrare ma forse anche qui come nel raccontar di un sogno il ricordo di un lontano evento a qualche fantasia ricordi e sogni sono pieni del mio fantasticare e aiutano la vita con gioia anche nelle avversità c'è anche una certezza su cui non puoi sognare il tempo che è passato segni veri ti ha lasciato su quello che verrà se vuoi potrai fantasticare grazie a tutti